Calano i prezzi agli immobili in Calabria e così anche i canoni di locazione. Sono questi i dati relativi al 2017 registrati all'osservatorio di Immobiliare.it. I prezzi richiesti per le vendite sono infatti scesi dall'1,2%, mentre i canoni di locazione hanno perso lo 0,7%. Nello specifico, per acquistare una casa, si spendono mediamente in regione 1023 euro al metro quadrato, mentre per affittarla 4,51 euro al metro quadro. In leggera controtendenza, Cosenza, che registra valori in aumento del 2,3% rispetto al 2016 e canoni in affitto in aumento del 2%. I canoni di locazione più elevati sono quelli richiesti a Catanzaro, dove le vendite calono dell'1,6%, mentre per affittare casa servono in media 4,87 euro al metro quadro. Per quanto riguarda i costi richiesti per gli acquisti, Crotone è la città in cui si sono rilevati i cali maggiori, con il meno 3,7%.